Eeeh, bel trui ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi come letto a tiro, giocheremo per la prima volta Proveremo Clash Quest per la prima volta Allora, prendiamo, abbiamo un po' di volume Anzi così già va bene, allora Sempre carino comunque, allora Vediamo Non l'ho ancora provato, l'ho voluto provare Siccome mi spavento che lo tolgo prima o poi Dopo comunque, dopo questo video ci giocherò Però vabbè, allora Eeeh, in inglese Però comunque ho visto qualche biciato, ci so giocare Allora Ok Ma dove fare la combo, scusa Ecco infatti la combo Mi ha detto che se tengo premuto in una combo Tipo Si posso vedere, allora è figo Ok, giugato, giugato Mettiamo un po' di volume Avanti Che vuoi Ok Non so l'inglese, grazie Eeeh Ok, si va bene Va bene Sì, vai Ok, vediamo questa combo Ok Non è molto buona però dai Ok, questa si che va bene Perfetto Perfetto Raga Sembra molto carino come gioco Come gioco super scienze Sembra molto carino Comunque io Globale Globale Lo metterei Mi piace molto come gioco Globale Lo metterei Ok, vai Ok 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 Posso andare avanti Ora prendo Faccio subito i maghi Perché comunque hanno un botto di Può andare molto lontano i maghi Ed è buono Ok Vabbè Direi che Il campo di prova Cioè prima partita Easy Però è molto carino Devo dire La verità Link in descrizione Visto che non è disponibile Sono andate a vedere il tutorial Che ho fatto Come scaricarlo È molto semplice Comunque Allora Vediamo Ok Credo che Ci sono i potenziamenti Non l'ho capito molto bene Vediamo Che mi attacca Subito Così Ok Mi piace molto Io non mettei il goblame Questa è la seconda volta Che lo dico Scusate Le non dici Che non ho appena C'è il suo Coca Il master Se comunque sto pensando Ad italia Molto bene Sto a fare pure il zoom Regà mi dispiace Ma questo video Comunque Si verrà Invert Cioè Si verrà Non verrà molto bene Perché si verrà Tutte cose nere Comunque Andiamo avanti Ma sai Subito da Sono andati Andate a uscire Eh Perfetto Cioè loro già stavano andando A quel paese Praticamente Comunque ho sbagliato La mossa di prima Ok E niente Aia Vabbè Che belle tre E niente Ma che morto Raga Come siamo gli arsheri Ecco qua Io direi di usare Questa combo Che è molto buona Ah però I capelleri Vanno diretti Ok Ok Allora I barbari Sono molto buoni Aia Ce l'ho colpito Allora Combo di barbari Che è molto buona Combo di barbari Io vi consiglio Se avete La possibilità Di fare combo Di barbari O di Di maghi È molto buono Ah sto Finiremo di secondi Quando finisco Queste qua sotto Queste qua Ehm Cioè Cioè La partita Che finisce Sponde Allora Comunque Sì Spero che Si vede Che sto Solli di tra Molto bene Più Bene di prima Che metto Solo le canzoni Comunque Mi sta piacendo Molto Regà Regà Clash West Allora Qua possiamo potenziare Sì Ok Andiamo avanti Mi piace molto Raga Mi piace molto Lasciate 6 like Visto Che è il primo Primo video E lo porterò Di nuovo Comunque Lo porterò Lo stesso Però voglio Che lasciate 6 like Comunque Non me ne frega Di like Voglio Che sto Dino Con Io lo so Che sto Vabbè Comunque Lasciate 6 like Se voglio Che una Clash West Vabbè Prima partita Gli si lanciano Alcele Che va a fare Sprecare Combo Ok Buono Buono Pac Pac Vabbè Ce l'ho lasciato Solo Oh Buona Sta Combo Buona Buona Usiamo La cele Bassa Scusa Manco Sprecare Qui L'alieno Che passa Combo Di Barba Di Molto Buona Molto Buona Perfetto Combo Di Maghi Mago Sprecato Vabbè Però dai Ci sta Ci sta Ok Vediamo cosa trovano Questi boli Allora Ok Credo che Già possiamo potenziare Qualcuno Ok Si mi dice Che posso potenziare Oh perché Ma così tanto Costa Vabbè Credo che Suppongo Suppongo Che Perché dico Sempre Suppongo Mi sto Io Sempre Suppongo Non ho mai usato Sta parola Comunque Potenzi Barber Vi consiglio Molto I barbari Ragazzi Allora Toglio Ok Ok Ah La palla Di fuoco Credo che sia Quella Si ho visto Alcune cose In i miei video Allora Allora Andiamo avanti Ah ma Dove Cosa Si è Un bozo Tipo Un cosa Attacca Mi dice molto Regà Mi sta piacendo Moltissimo Sto gioco Io vorrei Che loro Metterebbero Globalmente Non so parlare Vabbè Comunque Mi dice Di lanciare La palla di fuoco Qua Ma è buonissima La palla di fuoco Vabbè Lancio Cami faccio una bella Bella combo Di questi Spack Sternilati Ecco Io direi di usare Westy Prima Ok Così Mentre spaccano Un po' di muri Mentre mi colpiscono Dopo Combo di Barberi Tattica Tattica Perfetto A poco L'arciano C'è una palla di fuoco Mi dico io Ok Non è stata buona Come mostra Raga Ho sbagliato Combo di Arcieri Buona Buona Ora buttiamo Una bella Combo Di questi Ed è perfetto Sai che vi dico Buttiamo Sto Barbera Ok Ok Io Qua ora Usiamo Gli arcieri Ragazzi Ok È stato buono Una cosa Ora usiamo Subito questi Che me lo spaccano Un po' di muri E fanno danno Aii Allora Ok Uno E due Qua non No Vediamo come va Allora Uno Uno spregato No Abbiamo vinto lo stesso GG Ragazzi Mi sta piacendo moltissimo Spero che con il link Che vi lascio in descrizione Non potete scaricare Sì perché ho più che il link Se no vi vedete Tutto l'ora Che ho fatto Allora Attacca Mettra volta Comunque Cioè Quarantesima volta Che dico Che mi sta piacendo Sembra Cioè Non so parlare Ragazzi Non so parlare Ok Che combo devo fare Quando ci fosse la combo Allora Facciamo questa 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 Cioè C'è la Pecchi combo Ma che morto No Ai Quanti danni Ci ha fatto Vabbè Attacchiamo Attacchiamo Pac A me Ci distrugge Solo le arciere Perfetto Così non possiamo fare Stacca Bobboli Di scena Tof Ma abbiamo sterminato Tutto Vabbè Mi ho spregato Però non fa niente Dai Mettiamo questa Che fa Molto danni Fa però All'oro All'oro Scusate No Vabbè L'oro Si mette davanti L'oro Qua Ti do problemi Allora Arcieri Vabbè Vanno tutti sull'oro Quindi devo aspettare Ok Perfetto Perfetto Ragazzi Ok Usiamo questi Cioè E' molto tattico Come il gioco Mi piace molto Aia Vabbè Easy Come Vabbè Abbassi che butto questa Ragazzi Dobbiamo pure il muro Perfetto Allora Ah io sto finendo di truppo Dovete buttare una palla di fuoco Gli danneggiamo Usiamo un barbero Ok Questo che va Ecco Va benissimo Quasi si bisogna giocare Ok Aia 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 Vabbè Una Non ho fatto GG Raghe Molto Quante volte ho detto Ci vuole i counter Molto Cioè Quante volte l'avrò detto Che bellissimo Basta Abbiamo capito Che è bellissimo Ragazzi Comunque Nove minuti di video Già Si vede che mi piace molto Sto gioco Cioè Io mi continuo Purti Potenziali In wizard Cioè che sarebbe Di maghi Sono sempre buoni I principi I principi I principi Sono buoni Allora negozio Ancora Ok Lo sblocato 20 star Qualcosa del genere Spongo Siano le stelle Credo Che siano le stelle Non ho mai detto Suppongo Ora sto insieme Di suppongo Vabbè Buu Buona combo Qua di arcieli Buona Ragà Vado Ci sono fatti Un botto di danni Qua non Non uso quella Uso questa combo Uso questo qua De barbari Con la Cioè Non è Non posso Usare Quelle Quelle De maghi Questa Or qua Si che buona Tac E Buona raga Vabbè Qua basta Sembra maghi Vabbè Che stanno dando Usiamo questa Una bella Una bella combo Di questa Come ultimo Spariamo questo E' fatto Easy Questa Questa partita E' stata easy Ok 1 2 3 Mi sto Mi sto prendendo la mano Ragazzi Ok Titolo Combattiamo No Sai che vi dico Non lo voglio combattere Non lo voglio combattere No no Non lo voglio combattere Vi lascio con l'hype Prossimo video Lave Prossimo video Combattiamo i goblin Il re goblin Spero che come Prima partita Quindi non posso Andare manca a mangi Sai che vi dico Stasera Faccio uscire Due video Anzi no Stasera Questo Per stasera E domani Alle 13 Al diretti No A un tott'ora Qualsiasi ora Far uscire Un video Dovere combattere Goblin Anzi Questo Mi faccio i video No Anzi Posso uscire Due video Stasera Comunque direi Che ci possiamo vedere Al prossimo video Ragazzi Nusciuto un like E ci vediamo Alla prossima Comunque Ragazzi Ora vado a registrare Un altro video A domani Che uscirà Quartodici e mezza Cioè alle due e mezza Non so di cosa si tratterà Perché ho delle idee Conservate Ma comunque Direi che ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao